Buongiorno dal gruppo casatotale.it e qui siamo nei box e a visionare il box che fa parte della proprietà dell'appartamento della casa in offerta.it in via Grazioli 10 che trovate sul nostro sito iteam.it raggiungibile anche dal dominio casainofferta.it questo è appunto il video che trovate anche sul nostro canale youtube casatotale relativo al box come si vede molto molto ampio adesso è pieno di roba però questo dimostra appunto che di roba ce ne sta ovviamente vediamo una motocicletta ma ci può stare tranquillissimamente una macchina un SUV anche di qualsivoglia dimensione non mi lungo oltre ripeto questo video lo trovate su casa totale canale youtube casatotale e arrivando al dominio casainofferta.it che vi porta sul nostro sito iteam.it un saluto dal gruppo casatotale